Sono stati identificati due dei quattro norad africani che hanno aggredito in piena notte giovedì presso un passante ferroviario a Milano, un capotreno ed un ferroviere che tra l'altro hanno attaccato a colpi di macete dopo essersi ripiutati di mostrare il biglietto. Due dei quattro appunto sono stati catturati dai carabinieri ed uno di loro aveva la maglia sporca di sangue. Si è trattato di una lesione molto grave ma il braccio dell'uomo originario di Foggia è salvo, lo hanno affermato fonti dell'ospedale di riguarda ad alcune agenzie giornalistiche. Intanto scoppia una nuova polemica con il governatore Lombardo Maroni che dice se è necessario contrastare questi fenomeni bisogna sparare. Grazie.